Si è aggiunto un membro proprio nel vero senso della parola alla famiglia Alpero di Natale Troccato Ma detto questo dureranno poco perché tra poco Fabio arriverà Quindi li spodesteremo Ragazzi miei c'è Fiorentina Roma una partita importantissima ovviamente E per una squadra e per l'altra Ma come finirà? Io ho veramente paura perché La Fiorentina è abbastanza in forma e la Roma ha uno stato psicologico Ultimamente abbastanza altalenante Detto questo, oh tutti, diamo immediatamente il via alla sigla e ci vediamo tra poco Sarà, no, meglio che non lo dico Eeeh, vai Sono partiti, volevo vedere se si accendeva a te, dagli che si comincia Non c'è prova che mette in chiappetto Devi comparire a c***o di fuori? No, va bene, si Ok Si messo qua tutto Leva, leva tutto Algero, farmaco, ma che? Ce l'hai fatta? Eccomi Ciao Ciao Sistemiamoci Zitto, zitto Oh Meno male che l'ha buttata fuori, oh Questi so, veramente Non lo so io Ma no Fricore in movimento Bello Ma no Ma no Mortacci due De tu nonna Non ci posso credere Oh Non ci provare Ma non è rigore Ma si è buttato, si è visto lontano un chilometro E questo sarebbe rigore Oh, non da nessun rigore che me c***o come la Iena, eh Senti, io non riesco a capire se è rigore, ma è dubbio Cioè, non è netto, è dubbio Ma che c***o Ma che si fa così E che c***o No Ma dai, ma che c***o Vabbè, guarda, oh Se partite così, te fanno solo bestia mia, guarda, oh Eh, vai, Nandro Vattene a f***o Mamma mia Zagnolo Eh Dai vialo Mamma mia, rega Mamma mia Non si può giocare così, però, eh Non si può giocare così, oh È buona Ma no Fa mettere a mezzo, no I momenti se lo fanno Paglia Prost Palla per lui E dai Che c***o, sbrigate vaffa E dai State pure ai sui tabi, a sta c***o La piada, la piada, dai, forza Mamma mia, oh Me lo del c***o uguale È una botta di c***o, mo La palla sdentagliata a mezzo Ragà, lo sai come funziona? Che di solito L'abbiamo sempre noi Contro Tira 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 adesso La piada, la piada, la palla La palla, la